Nell'episodio 33 di Pokémon Sole e Luna, il Team Rocket fa finalmente, per nostra sfortuna, ritorno nella serie e sono alla ricerca di un Pokémon nel lago alla collina Scrosciante, ma dopo aver trovato un Wishiwashi, Beware a bocca e se li porta via tutti come se fosse un motoscafo. Ok, oggi a quanto pare il nostro gruppo di amici avrà libero arbitrio e Swiren vorrebbe andare a pescare, chiedendo a Dash di aggregarsi, il quale accetta senza pensarci due volte, mentre tutto il resto del gruppo va a casa di Kawe a provare a quanto pare le cornie varie. Arrivati al luogo dove vogliono pescare, lo stesso vecchietto che ha detto a James del Pokémon dominante sta parlando ad Ash e Swiren della stessa cosa. Per sfidare il dominante serve a quanto pare catturare un Feebas, una menzogna bella e buona, poi vengono diciamo convinti ad andare in barca e pescare un altro esemplare di Pokémon d'acqua, ma come tutti noi sappiamo l'incubo peggiore di tutti i pescatori è trovare i Magikarp, infatti Ash ne trova uno al primo colpo. Mentre Swiren sente la presenza di un tipo d'acqua, compare il Wishiwashi forma branco dominante, che fa spaventare e non poco il nostro Ash poppante e toccherà a Swiren affrontarlo oltretutto. Mentre i nostri due pescatori sono impegnati con Wishiwashi, il gruppo di Kawe è nulla facente come nessun altro, ma torniamo ad Ash e Swiren che sono più importanti. Come si poteva benissimo immaginare, Wishiwashi è molto potente, ma Swiren non si vuole arrendere e Popplio, percependo il sentimento della sua allenatrice, decide di farsi rincorrere da Wishiwashi dominante, che verrà poi curato da Onolomomola, trasformando questa prova in una sfida tra fazioni, una delle quali sprovviste di healer. Ash riesce a mandare Kawe a Lomomola, quindi Swiren può tranquillamente occuparsi di Wishiwashi con l'aiuto di Popplio, che con acquaggetto divide il Wishiwashi forma branco e permette a Swiren di vincere la sfida, oltre che guadagnare un cristallo Z di tipo acqua. A fine episodio, Swiren riceverà il suo cerchio Z da Alixia e ci piazzerà il cristallo Z ottenuto, per poi prendere un po' in giro i suoi compagni di classe. Bene allenatori e allenatrici, spero che il riassunto non vi abbia annoiato e che l'episodio non sia dispiaciuto a nessuno. Io sinceramente l'ho guardato con piacere, fatemi sapere cosa ne pensate in un commento qui sotto e lasciate un mi piace se anche questo riassunto vi è piaciuto. Iscrivetevi se anche gli altri video che portiamo vi interessano e premete sulla campanella per ricevere la notifica del video appena caricato. Vi chiedo anche di passare dai link in descrizione che vi porteranno alla nostra pagina Facebook, al nostro profilo Twitter, al nostro canale Telegram, al nostro profilo Instagram, al nostro canale Twitch e ovviamente al nostro sito internet dove troverete news riguardanti il mondo Pokémon e Nintendo in generale. Se avete visto il video di Diego, a quanto pare nei prossimi episodi sarà un susseguirci di battaglie contro i dominanti di Akala e la Kauna Alixia. Cosa ne pensate di questo improvviso andare di fretta della serie di Sole e Luna? Scrivetevelo nei commenti qui sotto, non ho altro da aggiungere, quindi ci vediamo al prossimo riassunto. Sayonara! Ciao! Grazie a tutti.